Proseguono gli incontri della comunità parrocchiale dello Spirito Santo a Trani con le realtà più vive del territorio. Nei giorni scorsi incontro con i vertici del Centro Jobel e del Centro Antiviolenza Save. Ascoltiamo Gaetano Attivissimo, Vanna Capurso e Valentina Palmieri. Ci è sembrato doveroso far conoscere alla nostra comunità un'associazione come quella di Save che per quanto mi risulta sta lavorando molto bene in città e quindi tutto il proprio impegno posto nella tutela delle donne che molto spesso sono sole e indifese, questo ora ha in loro, nell'associazione, un punto di riferimento e noi come comunità cristiana vogliamo esercitare questo nostro ruolo positivamente facendo conoscere tutta la nostra comunità la preziosa opera svolta dall'associazione. Abbiamo accettato volentieri questo invito per far conoscere appunto al territorio i servizi offerti dalla nostra cooperativa anche perché il Centro Jobel è un polo molto grande che racchiude diverse realtà ed è giusto che la cittadinanza sappia precisamente che cosa c'è all'interno del Centro Jobel. Proviamo a riassumere le varie aree tematiche. Le varie aree tematiche sono principalmente la parrocchia della Madonna del Pozzo con l'oratorio estivo insomma gli spazi per l'oratorio, poi c'è la nostra cooperativa promozione sociale e solidarietà con i servizi di Centro Diurno, Casa per la Vita, Save e il PIS pronto intervento sociale e poi c'è l'associazione promozione sociale e solidarietà con la Ludo Ausilioteca e infine il Festival Il Giullare. Queste occasioni sono sicuramente preziose per continuare la nostra opera di sensibilizzazione nei confronti soprattutto delle famiglie e quindi diciamo quali occasioni migliori per incontrarle in questi contesti. Presso il Centro Antiviolenza che ha sede appunto in Via Giuseppe di Vittorio 60 il Centro aperto quasi tutti i giorni e comunque con una reperibilità 24 ore su 24 data dal nostro cellulare offre a chi si rivolge a noi senza dubbio ascolto, consulenza legale, consulenza psicologica da un po' di tempo abbiamo inserito anche l'orientamento didattico nel caso insomma ci siano delle persone che debbano completare gli studi ma anche orientamento professionale e comunque poi un percorso diciamo personalizzato per il recupero e il reinserimento sociale di chi si rivolge a noi.